Ciao amici, ben ritrovati. Eccoli qua, sono arrivati. Sono i pennini premium di Caveco. Sono arrivati, hanno subito scatenato tante domande, tanta curiosità e domande più anche legittime. Cioè, vale la pena spendere questi soldi per montare un pennino come questo su una stilografica? Saranno davvero migliori? Oppure è solo una trovata di marketing? Non resta che andarlo a scoprire. Cominciando a vedere come sono fatti. Caveco ha in catalogo tre tipi di pennini con questi qua. I pennini standard, i pennini premium in acciaio come quelli standard ed i pennini in oro. Riporto dal sito Caveco quello che c'è scritto nella presentazione. Il pennino premium, placato in oro lucido per una sensazione di scrittura delicata. Coloro che si concentrano sul comfort di scrittura e non sul materiale in oro. Possono godere del piacere di scrittura che offre un pennino in oro. Adesso anche con il pennino in acciaio Caveco premium. Oltre alla sua bella incisione e bla bla dice che ha un comportamento di scrittura perfetto. Grazie all'arrotondamento del bordo interno rifinito a mano. Il pennino placato in oro scivola dolcemente e delicatamente. La manifattura e la sensazione di scrittura sono paragomanabili al nostro 14 carati. Il pennino in oro vi ho detto in catalogo Caveco. I pennini di qualità disponibili eccetera. Beh allora anche se si trattasse di un puro marketing la premessa è importante. E potrebbe aprire una strada anche per gli altri produttori. Così come ormai quasi tutti i brand dispongono di una linea di inchiostri base e di una premium con formulazione un po' diversa, arricchita, più performante ed ovviamente anche ad un prezzo un po' diverso. Quindi abbiamo scoperto che hanno scoperto anzi che il pubblico è disposto a spendere qualcosina in più per avere qualcosina in più. Altrettanto viene da immaginare che potrebbe accadere con il pennino della stilografica. A fianco alla versione base che costa supponiamo 70 euro compare spesso il modello analogo con pennino in oro che sposta il prezzo a 200 euro. C'è tutto lo spazio in mezzo per introdurre un nuovo segmento. Il pennino premium da 120 euro. Si discosta di poco tutto sommato da quello da 70 euro del modello base ma è molto distante dai 200 euro del pennino in oro. Ecco trovate in un colpo solo migliaia di acquirenti proprio quelli che Caveco dice sono più attenti alla scrittura che al materiale del pennino insomma alla penna elegante e rifinita in tutto e per tutto compreso anche il materiale più pregiato del mondo. Caveco ha lanciato il sasso però ogni promessa è debito e allora bisogna verificare come prima cosa se l'attenzione che questa azienda riserva ai pennini premium è davvero più elevata rispetto a quelli standard. In altre parole se vale la pena o no acquistarli e bisognerebbe anche così per approfondire la conoscenza appurare se la serie dei pennini in oro Caveco è rifinita nella stessa maniera di questi premium. Perché vi confesso che potrebbe persino verificarsi il paradosso che accade sempre più frequentemente a dire il vero che il pennino in acciaio ben rifinito scriva meglio di quello in oro. Nulla di sorprendente per carità visto che finché rimaniamo nell'ambito di pennini rigidi la differenza meccanica delle due leghe non diviene poi così determinante anche perché la parte lavorata quella che sfrega sulla carta è comunque una microsfera di iridio saldata al pennino. Non resta che andare a provare. Per la prova ho scelto l'inchiostro Caveco Royal Blue che è uno tra quelli che mi piace di più che fa anche rima. Tre penne, tre Caveco. Abbiamo la Student che ho presentato recentemente con il pennino per l'appunto premium un'extrafine. Poi c'è la Brass che monta un'extrafine standard sebbene la misura sia diversa ma ci rende l'idea del confronto. Le mettiamo a confronto però su una carta molto ruvida che tende continui agguati a tutti i pennini extrafini e cioè tenderebbero un po' ad impuntarsi perché la finitura superiore non è poi così levigata. Il pennino è un'extrafine di nome e di fatto Inchiostro Inchiostro Il problema tra virgolette è proprio questo che i pennini Caveco sono degli ottimi pennini anche quelli standard e adesso sono curiosissimo di provare che cosa mi riserva il pennino premium. Beh Allora la differenza c'è, non nascondiamocelo. Insomma sta di fatto che questa Caveco Student con il pennino Premium Scrive meglio, scrive meglio perché scorre meglio e più precisa. Vi faccio vedere adesso stringendo di più l'inquadratura come il Questo è il tratto extrafine Premium E questo è il tratto extrafine Piamiamolo standard Si notano Spero riusciate a notarle due cose essenzialmente Che questo è più sottile Prima di tutto Ed ha anche una erogazione molto più lineare Ora Mannaggia non vorrei fare un video che dura 40 minuti Però l'erogazione Tutti quanti sappiamo che dipende dal conduttore E dall'alimentatore Però non è solo quello perché l'alimentatore Che si chiama anche il conduttore apposta Porta L'inchiostro al pennino Ma il pennino lo distribuisce A seconda della larghezza Larghhezza Parliamo in sezione Della fenditura Della finitura Dell'accumulo Che a seconda della Della forma Della sagomatura che abbiamo dato al pennino Si accumula Insomma ci sono tantissime cose che rispondono E hanno come diciamo responsabile il pennino Infatti qua si vede che il tratto è più grosso E anche l'erogazione è un po' meno costante Il che non mi dispiace mica Perché dà una bella varietà Però quando invece che scrivere in maniera un pochettino più espressiva Devo scrivere una paginetta E' chiaro che vado meglio con una uniformità e omogeneità Ok Marco ti sei spiegato Però adesso dobbiamo andare a vedere nello specifico Anzi nel dettaglio Questo pennino Come vedete è il pennino premium Un pennino che senza dubbio Almeno io che ne vedo davvero tanti Riconosco essere levigato Rifinito a dovere Soprattutto Ce ne accorgiamo nella parte Prominente Dove vedete addirittura Nell'immagine superiore Il pennino ripreso dall'alto Dove vedete una coerenza tra i due Rebbi E esemplare Una fenditura fatta Possiamo dire a regola d'arte Cioè come andrebbe fatta Voi probabilmente direte Ma dovrebbero essere tutti così Sì avete ragione Sarebbero tutti da realizzare così Però serve la mano dell'uomo Perché le macchine I robot La pressione meccanica esercitata Senza il controllo della sensibilità Di quella umana Non è la stessa cosa Se andiamo a vedere la parte inferiore Che è ancora più eloquente Si nota benissimo la fenditura Estremamente regolare Regolare Guardate nella parte dove Queste due sfere Vanno a toccare la carta Quanto è rifinita bene Ma colpisce anche la fenditura Che è regolare nella sua sezione E sapete che la capillarità Ha proprio questo principio Cioè di essere tanto più efficace Quanto è più stretta Serrata e regolare Si intende la fenditura Però serve il confronto Con un pennino ordinario Giusto per capire le differenze E qui vi sembrerà Che stiamo parlando di qualcosa Di anomalo Di realizzato male E invece il pennino Che avete visto scrivere Sulla Ecobrass Che è un pennino Che scrive anche molto bene Identico alle migliaia E ai milioni di altri pennini Che equipaggiano Le nostre stilografiche Chiaro che In maniera così ingrandita Mettono in luce Tanti particolari Che ad occhio nudo Non si possono apprezzare Così come per esempio Tutti quei piccoli strisci Che sono dovuti Quando andiamo ad asciugare La penna O il pennino Con un panno Con una carta Magari che ha qualche Qualche polvere Qualche granello Impercettibile Che però Fa delle piccole Dei piccoli strisci Sul nostro pennino Quelli che vedete Sono Anzi quello che vedete Il pennino Ripreso nella parte Superiore ed inferiore Un pennino standard Quello della Ecobrass Che sembra Disallineato Sembra Scarsamente rifinito Potremmo dire Eppure Quello che avete visto Scrivere nella prova Ed è un pennino Che scrive Comunque molto bene Però È chiaro Che non è A livello Di quell'altro E queste differenze Si riverberano In che cosa In quello che vi ho detto Nella regolarità Del flusso appoggiato Sulla carta Nel non stancarci Quando scriviamo a lungo Perché comunque È la regolarità La regolarità Della superficie Aiuta Allo scorrimento O la scorrevolezza La regolarità Dell'inchiostro E inoltre Una cosa Che si nota Sulle penne Quelle rifinite bene Cioè La precisione Non Intendo far riferimenti Ad altri marchi Ma sapete Che quando provo Delle penne stilografiche Vi dico È Il concetto Di confidenza Cioè La capacità Di portare la penna Dove vogliamo Di far coincidere I raccordi Delle gambette Significa che c'è Un pennino Rifinito Veramente bene A fare Per esempio Un cerchio Un impegno Mantengo Una certa velocità Il primo è venuto Molto bene Perché Vedete che Mi sono Agganciato Quasi Senza Farmene accorgere Però Gli altri Non sono così Validi Provo Col pennino Premium Vado più veloce Capite cosa voglio dire Il controllo Che offre Un pennino Come questo Rifinito bene È notevolmente Maggiore Cioè Qualsiasi carattere Voi andiate A scrivere Con una velocità Pari a quella Di un altro pennino Risulterà Migliore Qui sono su una carta Ruvida Risulta migliore Perché il pennino Sta più Nella sua sede Segue la direzione Che voi impostate Quindi è meno fatica Nello scrivere Insomma Le differenze Ci sono tutte Che stiamo parlando Del premium Di Caveco Così come di Qualsiasi altro pennino Rifinito A dovere Quindi La differenza C'è C'è E si sente E a proposito Di sentire Se sono capace Sto in silenzio Vi faccio sentire Anche la differenza Di come il pennino Scorre E allora Cominciamo a trarre Le conclusioni Partendo dal fulcro Del ragionamento Che ha fatto Caveco Cioè Pennino standard E pennino in oro Molto costoso A metà strada Collochiamo Un bel pennino Premium E sembra effettivamente Un'ottima pensata Anche perché Non dimentichiamo L'altro aspetto Che comincia a pesare Notevolmente Sulle scelte Dei marchi stilografici E' proprio quella Dei pennini Fatti in casa Oppure affidati Ai produttori terzi E bene o male Sappiamo tutti Che ci sono Due grandi colossi Che sono Boc e Giovo Sono i due gruppi Che stanno sviluppando Progressivamente La maggior capacità Di lavorare i pennini Perché semplicemente Sono quelli Che ne producono di più Cioè Ne lavorano Tanti E Tanti Sulle linee specifiche Quindi con diversificazione Dei tanti Produttori Che richiedono Quello fatto così Quello fatto colà Per esempio Caveco Chiede quello fatto In questa maniera Ora Viene anche da pensare Che se uno di questi Grandi gruppi Si dotasse Di un reparto Di Nib Master Come Dio comanda Avremmo effettivamente Una Un salto di classe Questi Chiamiamoli così Pennini premium Che darebbero Davvero Un valore aggiunto A molte penne Stilografiche Che sono belle Sono buone Scrivono anche bene Ma hanno quel margine Di potenzialità In più Ancora Inesplorato I due grandi gruppi Perché Possono contare Sulla forza Dei numeri Che artigiani Piccoli produttori Invece Non possono avere Come risorsa E Una loro Lavorazione Così artigianale Di un pennino Porterebbe ad avere Un costo finale Della penna Stilografica Davvero esorbitante Un pennino Premium Come questo Salva La capra E i cavoli Non costa Come quello in oro Ma scrive Molto bene Forse Anche meglio Ma io non l'ho detto Scrive molto bene Ma resta però La domanda Quella iniziale Cioè Vale la pena acquistarlo Ma certo Sì Perché Per esempio Se la mia penna preferita È una Una Caveco In alluminio Una student Come quella Che avete visto Nella prova Certo Gli faccio un regalo E lo faccio anche a me Prendo un pennino Che scrive meglio Oppure se ho Due Tre modelli Che sono compatibili Con questo pennino Che ha la filettatura Da 0,60 Vi andate a vedere Sul sito del produttore La compatibilità Ma comunque Riguarda Comunque I Prodotti I prodotti Scusate Le stilografiche Di A student Special E la Sport A L Come vi ho detto Beh ne ho più di qualcuno Me ne compro uno Della gradazione Che mi piace di più E posso Giostrarmelo Su tutte le pene Perché basta Comunque svitarlo Ve lo farò vedere In un video tutorial Che potrebbe anche Apparire superfluo Ma non lo è mai Credetemi Basta veramente Svitarlo E riavitarlo Oppure posso anche Anche avere Soltanto la curiosità Di acquistarlo Per Provare come È un pennino O come dovrebbe essere Un pennino Rifinito A dovere E a questo punto Però due osservazioni Conclusive La prima È che È una confezione Faraonica Una confezione Molto bella Caveco Ce lo dice L'abbiamo fatta Mantenendo lo stile Richiamando Una pubblicità Degli anni XY Però Poteva essere Un po' più piccola Anzi Ancora ancora più piccola Una bella Latta Magari Come Come ce ne sono E risparmiare Una decina Abbondante Di euro Questo Secondo me Potrebbe essere Una strada Anche da seguire Caratterizzandolo Sempre con questo Family feeling Della Della latta Ma tanto più La scatolina Me la sono già comprata Quando ho acquistato La penna E poi Bisogna ammettere Che i pennini Caveco standard Scrivono già Molto bene Di loro Come accennavo Prima Il miglioramento Con un pennino Premium È tangibile Ma più immediatamente È percepibile Su quei pennini Specializzati Come gli extrafine Infine Oppure gli stab E allora Prima di concludere Due versioni Come vedete Una Azzurra Una color crema Che dovrebbe essere La prima Silver Cioè quella Per i pennini Argento O rodiati E quell'altra Invece per quelli dorati Dove Effettivamente Bisogna anche ricordare Che una placatura d'oro Fatta bene Comunque al suo costo Perché l'oro Che sia in bagno galvanico Oppure che sia In solido metallo Comunque costa Ve lo racconto Velocemente Molti di voi Non ne avranno bisogno Basta Semplicemente Svitare Il pennino Ma Per chi Magari Non è così esperto Farò un piccolo Video Che spiega Nel dettaglio Come fare questo Bene Direi che L'idea che Mi sono fatto Un po' Di questa Nuova Uscita Di Caveco Credo Dipenda Molto da Un team Giovane Dinamico Che ha assunto Il boss Molto attento Anche All web Molto attento Alla comunicazione Ma in questo caso Mi sento di dire Che probabilmente Hanno fatto Centro Anticipando Un pochettino Quella Che potrebbe essere Una strada Che molti altri Concorrenti Probabilmente Seguiranno Grazie a tutti voi Amici E alla prossima Alla prossima Alla prossima